si usa tanto. Procedendo in ordine alfabetico c'è G, G, gehören, appartenere, forse l'abbiamo usato nel dativo, diese Wohnung, gehört, appartiene, unseren Nachbarn, ai nostri vicini, gehören, anche questo è separabile, composto di hören, che vuol dire sentire, e c'è anche gefallen, gefallen vuol dire piacere, das gefällt mir gut, gefällt dir, wie gefällt dir, c'è anche qui un video, piacere, un piacere estetico, non c'è anche un piacere al gusto che è schmecken, poi c'è hinter, con hinter che vuol dire indietro, credo che esista un verbo sun, hinterlassen, lassen, lasciare, hinterlassen letteralmente significa lasciare dietro, in realtà significa lasciare in eredità. Poi c'è Miss, Miss a me piace tantissimo, Miss è, indica una cosa che va male, quindi, gelingen, a proposito di colte vuol dire riuscire bene, da kuchen ist mir gut gelungen, la torta mi è riuscita bene, e Miss Lingen, è riuscita la schifezza, ma è riuscita male, glauben, credere, Miss glauben, è non credere, Miss credente, è molto carino, c'è anche in italiano, fatto, Miss fatto, è anche in italiano c'è una valenza negativa, credente, Miss credente, e anche in inglese, to understand, miss understand, che è fraintendere, c'è anche in tedesco, verstehen, hast du verstanden, capito, ich verstehe dich gut, capire bene, miss verstehen, è capire male, fraintendere, e se qualcuno di voi riesce a darmi qualche informazione supplementare su questo Miss, sarei molto contenta. Allora arriviamo adesso a fair, che è molto interessante, abbiamo kaufen, che è comprare, e verkaufen, che è in realtà un'altra cosa da comprare, e poi è vendere, mitten, che è prendere in affitto, e ver mitten, dare in affitto, lo rende quasi transitivo, molto più preciso rispetto all'italiano, dove affittare non si capisce se è quello che prende in affitto o quello che lo dà in affitto, e poi fair, è molto carino, perché anche lui dà l'idea di una cosa che si sbaglia, per esempio, laufen, che è andare a piedi, corre, ah, ich habe mich verlaufen, oh mamma mia, mi sono sbagliato, ho sbagliato strada, andando a piedi, perché se lo faccio con una macchina, ich habe mich verfahren, ho sbagliato strada con un mezzo, rechnen, ad esempio, che fa i conti giusti, ich habe mich verrechnet, ho sbagliato facendo i conti, c'è sempre un'idea di errore, di sbaglio in questo fair, c'è anche, lo conoscerete, bitene offrire, e fair bitene proibire, non è, non è offrire, e non lo è, al punto tale che addirittura te lo proibisco, forse questo fa più parte, si avvicina in più alla categoria di prima, di mitten, fair biten, fair biten, eccetera, tutti conoscono fair biten, credo che significa proibito. Arriviamo così a zer, zer, vuol dire mille pezzi, allora reißen è stracciare, se io faccio ad esempio così, è zerre, è reißen, ma se io faccio così, e poi così, e poi così, è zerreißen, zerre. Also, das wäre alles für heute, und entschuldigt mich, scusate mi, entschuldigt mich, entschuldigen per questo ent, usa ti, entschuldigt mich, wenn ich etwas vergessen habe, se io vergessen, anche questo è separabile, se io vergessen, dimenticato qualcosa, tschüss!